Ehi, ciao Bella. Bella? Ma io mica sono una femmina. Ah si eh? E che cosa fai? Sono il testimonial della ovni. Ma pensa, anche io. Oggetti volanti non identificati. Il testimonial col più alto impatto per centesimo speso in produzione di tutta la storia del marketing. Fico! E chi sarebbe il nostro target? Beh, cosa vuoi? Il nostro target sono i direttori marketing. Wow! Ehi, ciao Belli! Ciao Belli!